Il secondo termine è un bonus di esplorazione e è studiato da questa quantità che è C2. Questa è una misura di distanza tra distribuzioni probabilità. In questo caso lo misuriamo è la distanza tra la distribuzione di polizia candidata e tutte le distribuzioni di polizia che abbiamo fatto. Grazie! Grazie! Grazie!